Non sai mai come iniziare a raccontare la tua storia, i ricordi si sovrappongono e sfuggono alla memoria, come in un labirinto rischi di perdere la strada, alcune cose non possono essere dimenticate, alcuni ricordi restano indelebili, per sempre parte della tua vita, come la mia infanzia e ho deciso di riordinarne i pezzi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione! Grazie per la visione!